Ciao ragazzi, oggi io e i miei amici abbiamo trovato un gioco su Roblox veramente super carino ragazzi, in questo gioco c'è uno spazio dove voi potete disegnare e poi cancellare vi faccio vedere come funziona e poi adesso disegno un cuore vedete, un attimo che carica perché il gioco ambia un po' il lentino vedete, ok e poi lo posso tranquillamente cancellare vedete quanto è carino? ve lo consiglio e per ragazzi, importantissimo, andatevi a iscrivervi al canale della mia migliore amica Lady Robloxia che è bravissima poi al canale del mio migliore amico ViperVip che fa video veramente, raga, spettacolari e poi al canale del mio amico DiesBlueFad che è un bravissimo youtuber quindi vi consiglio di andarvi a iscrivere e niente, iscrivetevi anche al mio canale e lasciate un bel mi piace ciao!